Dopo lo sciopero di ieri, anche oggi i lavoratori della Ital Cementi di Scafa hanno incrociato le braccia per protestare contro l'annunciata chiusura del cementificio. I sindacati sono sul piede di guerra perché, dicono, l'azienda non ha rispettato gli accordi nazionali sottoscritti nel dicembre dello scorso anno e così nel piano di ristrutturazione. La cassa integrazione che era per ristrutturazione ora è diventata per cessazione di attività. In mattinata si è anche tenuta una riunione congiunta delle commissioni provinciali politiche del lavoro e attività produttive presedute rispettivamente da Sergio Fioriti e Ettore Pirro. La riunione si è svolta negli spazi della Ital Cementi di Scafa. La situazione comunque è estremamente difficile. La proprietà del cementificio parla di situazioni di crisi del mercato del cemento che ha reso necessaria una revisione del piano Italia messo a punto da Ital Cementi a fine del 2012 nel quale era stata prevista una configurazione dell'apparato produttivo adeguata ai ridotti volumi di vendita che in sei anni sono più che dimezzati tornando a livelli registrati negli anni 60. Le nuove misure che prevedono la chiusura definitiva di altri due impianti, Scafa per l'appunto e Monselice, si legge in una nota, hanno l'obiettivo di garantire la sostenibilità economica dell'intero apparato produttivo di Ital Cementi in Italia in presenza di una crisi dall'intero settore dell'edilizia che ancora non accena ad arrestarsi. L'unico spiraglio che si intravede è rappresentato dal fatto che Ital Cementi è comunque disponibile a un confronto in sede ministeriale, già a partire dagli incontri programmati per il prossimo mese di settembre. La situazione comunque è davvero complicata.